Un cordiale ben ritrovati i telespettatori di RTA all'appuntamento con l'informazione locale. Si lavora da ieri alla frana di Carniglia nel comune di Bedogna, un tratto di strada che anche recentemente è stato teatro di smottamenti di notevoli dimensioni che solo per miracolo non hanno coinvolto una vettura giunta pochi attimi dopo la caduta di enormi massi. Vediamo. Sono iniziati ieri pomeriggio a Bedogna gli interventi di rimozione dello smottamento e messa in sicurezza della carreggiata nella frazione di Case Fellini a seguito del movimento franoso verificatosi il 24 novembre dello scorso anno attorno alle ore 14. più precisamente a lato della strada secondaria che collega le frazioni di Case Sparse, Carniglia e Caneso alla strada provinciale Bedogna, Passo del Bocco, Chiavari. L'appalto è stato affidato alla ditta Manfredi Antonio, mentre una compagnia specializzata valdostana si sta occupando di due operazioni di brillamento necessarie per mettere in sicurezza la zona. Ieri pomeriggio hanno piazzato la prima carica di esplosivi a un'altezza di circa 15 metri nel punto più pericoloso dal quale si erano già staccati imponenti massi per poi permettere il disgaggio dei frammenti rocciosi pericolanti attraverso una tecnica specifica e successivamente rimuovere interamente i detriti riversati al suolo. Il cedimento, risalente a tre mesi fa, interessò buona parte del colle per un raggio d'ampiezza di circa 20 metri. La strada secondaria da allora è rimasta chiusa al traffico, lasciando parzialmente isolati una quarantina di abitanti, due stalle e alcuni laboratori artigianali. La via alternativa è sì percorribile, ma piuttosto lunga e tortuosa. Diretto testimone della caduta massi fu Mirko Filiberti, dato che stava transitando proprio in quel punto qualche secondo prima dell'accaduto. Il quarantenne si disse scioccato da ciò che vide davanti ai propri occhi e del tremendo pericolo al quale era scampato, ma denunciò anche sui social come quella scogliera fosse pericolante da diversi anni e non fosse nuova a caduta di rocce di medio-piccole dimensioni. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha previsto la messa in sicurezza di buona parte del fronte roccioso con una rete protettiva e dei tiranti. Dalle ore 10.30 di questa mattina le ditte hanno continuato i lavori che si dovrebbero concludere in questi giorni. Voltiamo pagina per il Comitato Pro Ospedale di Borgotaro. Il Sindaco Diego Rossi, come gli altri primi cittadini, il Presidente della Regione Bonaccini e l'Assessore Venturi, non hanno fatto nulla ad oggi di veramente concreto per poter riottenere l'apertura del punto nascita del Santa Maria. Lei, Diego Rossi, come Sindaco di Borgotaro e Presidente della provincia di Parma, come noi dei comitati sparsi sulla montagna emiliana, lamenta le mancate risposte del Ministero all'istanza di revisione che avete inviato a fine febbraio 2018. A parte il fatto non trascurabile sotto l'aspetto della correttezza istituzionale e dei rapporti sociali che lei dimentica di ricordare che quell'istanza l'avete avanzata su una precisa documentazione che il Comitato Pro Ospedale aveva precedentemente inviato a tutti i comuni e alla provincia, sollecitazione poi fatta propria come mozione consigliare dalla minoranza consigliare di Borgotaro, i sette mesi che sono passati per il governo sono passati anche per lei, senza batter ciglio fino ad oggi. Come gli avevamo scritto già due mesi fa, ci saremmo aspettati un interessamento ben maggiore che non c'è stato prima e da quanto dice non c'è neanche oggi. Lei dice Bonaccini e Venturi si sono detti disponibili a rivedere le loro posizioni e a parlare col Ministero. Benissimo, ma speriamo che lei si sia reso conto che l'istanza rivolta al Ministero è stata originata dalla richiesta di deroga sbagliata, volutamente sbagliata diciamo noi, che proprio Bonaccini e Venturi hanno determinato e che quindi quell'istanza formalmente rivolta al Ministero era un atto di contestazione nei confronti di Venturi e Bonaccini. Perciò se lei opera realmente per far riaprire il punto nascita di Borgotaro, deve semplicemente pretendere da Bonaccini e Venturi che riconoscano di dover rivedere i contenuti tecnici e politici della loro richiesta di deroga. Allora si vedrà se il Ministero sarà dalla parte nostra. Noi sinceramente pensiamo che il Ministero e il Governo debbano fare la loro parte, ma che una parte altrettanto decisiva debbano farla a Regione e denti locali, in primis i comuni direttamente interessati. Sull'annoso tema dei ritardi nei pagamenti ai fornitori della pubblica amministrazione, la provincia di Parma è in netta controtendenza. L'ente di Palazzo Giordani nel 2018 ha liquidato i pagamenti in media in soli 19 giorni dall'arrivo delle fatture contro i 30 richiesti dalla normativa. Lo rileva la piattaforma nazionale di certificazione dei crediti che ha elaborato i dati riferiti alle fatture messe a carico delle amministrazioni provinciali tra il 1 gennaio e il 30 settembre dello scorso anno. La provincia di Parma è particolarmente virtuosa. In ambito nazionale la media di pagamento delle province italiane è di 36 giorni. Quelle delle miglia hanno tempi medi di pagamento di 28 giorni. Soddisfazione per questo risultato esprime il Presidente Diego Rossi. Abbiamo preso in carico una situazione ben gestita che speriamo di migliorare ancora, afferma. La provincia gestisce ancora un bilancio di più di 70 milioni di euro l'anno. La tempestività dei pagamenti ha un'incidenza positiva diretta, in particolare per le piccole e medie imprese del territorio che forniscono servizi all'ente. È stato presentato sabato scorso a Bedogna, al centro civico La Peschiera, il cortometraggio Memorie di Libertà. Si tratta di una serie di interviste raccolte, tra le quali vi è anche quella realizzata con il bedognese Pietro Gnecchi, scomparso qualche anno fa, che combatte la battaglia del Lago Nero durante la Seconda Guerra Mondiale. Un evento che è stato organizzato dallo SPICGL, dal Comune e da Alpi. Ho capito che avremmo vinto, quando ho visto disparo il primo materasso per recuperare la lana e trasformarla in un maglione per un partigiano. In quella casa fredda, tra donne che non conoscevo. Ho capito che era solo una questione di tempo e che quelle dita non si sarebbero fermate mai più. L'idea è nata dalla raccolta di memorie che noi abbiamo su una trasmissione di una televisione locale a Parma. Avevamo 100 interviste, di cui 24 di ex partigiani. Di queste, abbiamo 4 giovani registi, hanno deciso poi di trasformarlo in un film documentario, perché c'erano testimonianze di 12 ex partigiani che hanno raccontato la loro esperienza, la loro storia e ci hanno fatto rivivere tutto il dramma di quella lotta, ma anche la soddisfazione e la gioia finale nel vedere l'Italia, un paese che è tornato a essere libero. L'Italia era un paese occupato da un esercito straniero e purtroppo le vicende interne, compreso Mussolini, quando si costruisce poi la Repubblica Sociale Italiana, però erano alla mercè dell'esercito germanico. Quindi bisognava liberare il paese e pensare a cosa fare dopo. Allora lì, anche chi era lì che lottava, sapeva che lottavano tutti per la libertà, ma anche con l'idea di regalare questa libertà e la democrazia, e la Costituzione è sicuramente un pezzo fondamentale della nostra democrazia, a tutto il nostro paese, tutto anche a quelli che erano dall'altra parte. Cioè i partigiani hanno regalato la democrazia e la libertà veramente a tutti, vinti e quelli vincitori. Pietro Necchi compare in questo documentario e semplicemente, ma con grande umiltà, ci narra della sua esperienza partigiana, tipico della gente di montagna, l'onestà, la correttezza. Pietro Necchi ha portato la bandiera con orgoglio a tutte le manifestazioni partigiane. Soprattutto voleva testimoniare l'amore, la gratitudine nei confronti di chi ha aiutato i partigiani. Questo era Pietro Necchi ed era un testimone tipico della nostra vallata. Il materiale video deriva dal fondo fotografico dell'Istituto della Resistenza e in più abbiamo aggiunto nel montaggio finale un filmato realizzato da Antonio Marchio in 1945 che è la liberazione di Monte Chiarugolo che ha fornito immagini in movimento dell'epoca. Eravamo in quattro, io come rappresentante dell'Istituto Storico e tre registi professionisti, Enrico Gotti, Stefano Tedesco e Michele Benvenio. La montagna, in particolar modo l'Alta Valtaro ha avuto dei grossi testimoni, dei grossi combattenti, soprattutto in questo momento vorrei ricordare affettuosamente Carlo Squeri, comandante partigiano e prego anche, mi ha incaricato suo figlio l'onorevole Luca Squeri di portare i suoi saluti a tutta la montagna dell'Alta Valtaro. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Vallitaro e Ceno si terrà a martedì prossimo 29 gennaio alle ore 17 presso la sede operativa di Borgotaro. L'ordine del giorno prevede la discussione di quattro punti, tra loro l'integrazione della deliberazione del Consiglio del 27 novembre scorso con l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, gli adempimenti in ordine alla deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie e approvazione dello schema di convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna. Anche quest'anno la comunità di Porcigatone ha festeggiato la ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Animali di tutte le taglie per una tradizione che si perde nella notte dei tempi. A Porcigatone di Borgottaro si è ripetuto questo rito della benedizione di questi piccoli amici dell'uomo che durante il periodo della civiltà contadina, soprattutto qua nelle nostre zone, erano di valido ausilio all'uomo per il lavoro nei campi. Oggi sono rimasti come animali da affezione, ovvero la compagnia nelle case oppure anche per pratiche sportive come i cavalli o i cani da caccia. Rimane però appunto questa bella tradizione che si rinnova ogni anno. Una festa che ci riporta indubbiamente al tempo passato ma direi ci fa vivere il tempo presente perché questo trovarci insieme intanto ringraziando Dio per i tanti doni che abbiamo e che a volte non riconosciamo e poi per valorizzare questi doni per farli diventare esperienza di comunità. La festa di Porcigatone ha un po' questa caratteristica. È una piccola comunità che si impegna a fare accoglienza in questa circostanza ed è bello vedere gli amici animali insieme con noi impegnati nel fare comunità. Direi che il tema vero il tema che Sant'Antonio ci propone è che nel deserto di oggi oggi siamo a volte nel deserto dei valori deserto del senso in questo deserto dobbiamo trovare il modo di fare comunità fare esperienza di umanità. La delegazione provinciale dell'Istituto Nazionale per la Guardia di Onore alle reali tombe delle Pantheon di Parma per il quarto anno consecutivo sta organizzando un viaggio pellegrinaggio nei luoghi della Grande Guerra con tappe in alcuni sacrari militari dove riposano le spoglie di molti soldati che hanno reso la propria vita per l'unità della patria. Al viaggio previsto per il prossimo mese di aprile è stato concesso il patrocinio della presidenza provinciale Asso Arma e della sezione Ana di Parma. Vi è da parte di numerose amministrazioni comunali l'adesione all'iniziativa. Le dovute richieste sono state formulate al Ministero della Difesa a Commissione Generale per le onoranze ai caduti. Si parterà il 5 aprile con Pullman da Bedogna, Borgotaro, Fornovo e Parma e si farà rientro domenica 7. Le prenotazioni entro il 15 febbraio o comunque sino ad esaurimento posti presso l'agenzia viaggi Taro Travel in via nazionale a Borgotaro. Siamo alla pagina sportiva è ripresa sabato pomeriggio l'attività calcistica dei piccoli del Bardi dopo la pausa natalizia ed è stata subito vittoria doppia. Sono ripresi gli incontri calcistici dopo la pausa natalizia anche per la squadra dei piccoli del Bardi e subito è cominciato col botto. Sabato scorso i nati nel 2008 erano impegnati in due importanti manifestazioni sportive e in entrambe le circostanze hanno portato a casa la vittoria. Nella partita del campionato invernale in palestra Under 11 a 5 giocatori organizzato dal CSI Parma e svoltosi a Corcagnano il Bardi ha battuto Juniors Traversetolo per 5 a 2 mettendo in campo un'ottima prestazione di tutto il collettivo per nulla intimorito dagli agguerriti e mai dommi avversari andando a vincere agevolmente senza mai mettere in dubbio il risultato. Mister Riccardo Sipone ha designato capitano Ruben e suo vice Maui gole ad or sono stati Fabio Enrico autore di due reti e Matteo anch'egli con due segnature. Domani si gioca il prossimo incontro alle 15.30 presso la palestra San Paolo a Parma contro la Copp San Paolo. Nella seconda partita di sei giorni fa nel settimo torneo invernale giovanile di Carignano categoria Pulcini 2008 a 7 giocatori il Bardi ha avuto la meglio sul Cervo Nero per 4 a 1 anche qui grandissima prova di tutti dopo un primo tempo a reti inviolate i secondi 20 minuti di gioco sono stati esaltanti non lasciando margine ai seppur bravi avversari grande tripudio sugli spalti a fine gara da parte dei sostenitori della Valceno il mister ha confermato Capitano Ruben e suo vice Sebastian in rete sono andati Matteo, Enrico e Fabio autore di due gol domani sabato 26 gennaio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad annuvolamenti irregolari per nubi alte e stratificate temperature in aumento minime intorno ai 3 gradi massime 12 gradi venti deboli occidentali tra poco su RTA alle 20.35 salute e società alle 21 videostation alle 22.30 al telegiornale alle 23 balla che ti passi a mezzanotte rivediamoli del 1999 per noi è tutto grazie dell'ascolto e buon proseguimento di serata a domani grazie a tutti Grazie.